Il numero 7 Ah il numero 10 Sì bravo Ah Leonardo il numero 7 Che ti ha portato? Mamma o papà? Il papà di Alfonso Ah bravo Chi ha sete c'ha la fontanella pure qua Però chiedete al mister Chiedete al mister prima di andare a bere Le fontanelle bravo Ma se vi sedete? Vi sedete che dobbiamo iniziare Arancioni di qua e tu Di arancioni Dopo chi ci ha sete le vi fa bere Non c'è problema Ecco fra pochi minuti comincerà l'esibizione La Virtus Castelfrentano ci è stata chiamata Buonasera Forza di Velo Buonasera 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 Buonasera